e lo vedo più i cannesi di nuvole ma non lo collezionati al rex se ci passano aereo da vicino mamma vedete l'aereo quella luce che faccio in destra a me con lui con verra manco io faccio e non ci sono i cannesi di nuovo stanno facendo un bambino stanno facendo un bambino stanno facendo un bambino stanno facendo un bambino si passano dai di nuvole ma mi faccio non farlo in ventura Vangueosa. Acqua, non è corale. Non è corale, non è corale.